Sì, sì, siete in scena. Vai! Conte, buongiorno. Vuoi un caffè? Buongiorno, sì, grazie. Conte, bussalo alla porta. Vada ad aprire. È la stagione. Facciamolo entrare. È lì. Buongiorno, buongiorno. Conte, i suoi canali sono pronti? Andiamo. Bene, tutti gli attori ridono di gusto, come Demmati. Pronti, attenti, via. Conte, buongiorno. Vuoi un caffè? Sì, ma sì. Bravissimi. Tragedia. Adesso una tragedia, dove le persone si disperano. Non abbiate fretta, scandite bene le parole e le battute, non vi sovrapponete. Pronti, attenti, via. Per quanto è... Per quanto è buongiorno, vuoi un caffè? Buongiorno. Buongiorno. Sì, grazie. Avanza come la vita. Usa che l'ho passato alla porta. Oh, fate andare a vedere. Non l'avete fatto? Non ce la faccio? Così? Vieni, vieni Non so Non so Ti faccio voraggio e mi apro Non so Non so Non so Non so Non so Andiamo 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 Bene Attenti via Buongiorno 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 Sì, corretto Grazie Sì, corretto Sì, corretto Sì Ocione Ocione Grazie 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 Vado 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 Vedere Vado Vedere Grazie 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 G Grazie Grazie No, no, no. Pronti, attenti, via. Pronti, attenti, via. Conte, buongiorno, vuole un caffè. Buongiorno a lei, sì, grazie. Prego, molto di filet. L'hanno bussato. Vada a vedere filet. E lo stalliere, lo stalliere, facciamolo entrare. Buongiorno a te, buongiorno a te. Buongiorno a te, non c'è. Anni sono pronti, sono io con un caffè. Andiamo pure insieme a lei. Grazie, andiamo, andiamo. Due, uno, sono lao, via. Buongiorno a te, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è. Buongiorno a te, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è. Buongiorno a te, non c'è, 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 non c'è. Non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è. Andiamo. Fermi, la chiusura, c'è il caffè, ogni volta fa qualcosa, bene. bene chiusura pronti attenti sulla luna via buongiorno conte buongiorno si grazie si fa l'una oppo questo hanno bussato vado ad aprire la porta dello spazio e vedere chi è è lo stagliere facciamolo entrare buongiorno 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 i cavalli sono pronti andiamo dai cavalli spaziali vai bene via si si tutta al contrario andiamo i cavalli sono pronti buongiorno 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 facciamolo entrare è lo stagliere vado ad avermi hanno bussato un caffè grazie buongiorno conte vuole un caffè buongiorno vai va bene va bene bravi grazie 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 grazie